si inizia generalmente così buongiorno sergio farris buongiorno a tutti non hai suonato la trombetta ormai lo riconoscono per questa per questa cosa allora buongiorno amici di teleg in radio andiamo a parlare di automobilismo andiamo a fare con il nostro ormai possiamo dirlo a pieno titolo il nostro protetto stiamo cercando di portarle un pochino di fortuna dovremmo essere le tue cucinelle certo una cucinella 90 kg insomma non non è male mamma mia quanto pesa dentro la macchina ti non porterà mai nella sua radical b posto che lo vedrà protagonista in quelle di della provincia del belluno alpe del nevegal e la gara che ti vedrà impegnato in questo prossimo fine settimana sergio intanto in bocca al lupo perché chiaramente è una di quelle gare a cui tieni in vista anche della classifica nazionale sì sì siamo nelle montagne belunesi cercheremo di fare il nostro meglio come cerchiamo sempre di farlo quando usciamo fuori dalla sardegna proveremo la nuova di posto arrivata direttamente dalla casa inglese la radical pro sport con l'ultimo motore in evoluzione vedremo di fare tutto il possibile tutto quello che ci hai raccontato in linea e massimo la conoscevamo già è chiaro che la domanda è questa dal punto di vista fisico e soprattutto mentale come come ti senti solita solita oppure sai che insomma difendere un campionato o meglio un titolo conquistato è sempre è la cosa più importante il ripetersi soprattutto vabbè che per penso guarda noi nel trofeo italiano adesso nella zona nord siamo terzi perché abbiamo due gare in meno abbiamo due persone davanti a noi che calabrese domenico scuola junior quello di ascoli il pilota di ascoli che fabrizio peron e sono due grandi piloti cercheremo di non allontanarci più di tanto di riprendere un pochino anche quella che la la vicinanza alla vetta non è che se la terza posizione la terza moneta è già importante però deve recuperare chiaramente punti però mancandoti due gare è chiaro che tu hai solo esclusivamente da guadagnare quindi la cosa che noi ti possiamo dire questo intanto ci serviranno e questo te lo diciamo di fronte ai nostri telespettatori di telegine radio delle immagini del camera card perché noi poi le lavoreremo insieme a federico che curerà una cosa particolarissima per questo pilota dopodiché vi possiamo e vi potremo dire da qui a qualche giorno il riferimento a quello che sarà quel programma dedicato ai motori che adesso sta prendendo vita almeno l'idea e vediamo un attimino cosa farne perché no poi potresti essere un buon testimone al visto che sei uno dei piloti sardi in in vetrina e perché no andare a riscoprire anche quello che è stato perché questo mondo dei motori ha necessità secondo noi di avere la giusta sottolineatura la gratificazione che meritate perché adesso lui parte domani però c'è tanto lavoro sappiamo che sta rifrequentando le palestre e quindi questo credo che sia la cosa importante dal punto di vista psicofisico l'equilibrio che devi raggiungere come pilota ma riguarda ciò il personale che sta mordendo dietro la schiena perciò cerchiamo sempre di essere fisicamente a posto e toglieremo tutti i pensieri mentali che mi piace la tracetti non piace l'espressione estasiata di giuseppe che ci sta guardando dall'altra parte che sta seguendo è sempre così sempre sta sempre cercando di raffigurare no beh raffigurare lui il suo mestiere lui è uno di quelli riesce a fermare l'attimo il l'emozione in quel momento secondo me lui ha detto delle cose anche un pochino giuseppe sta scuotendo la testa il personal trainer in bocca al lupo per grazie allora noi naturalmente aspettiamo che le risultanze di questa gara dopodiché avremo il piacere soprattutto di proporre ai nostri ascoltatori non solo le immagini del pilota bello seduto no con il suo fisico come si dice rampante nel vostro caso riferimenti non lo so fai tu fai tu e poi davvero cercando di stemperare soprattutto sperando di raggiungere quei traguardi che lo vedono da diversi anni protagonisti sergio farri protagonista sergio farri sei pilota radical pilota ufficiale per il campionato italiano italiano profeta liano ritorno vincitorio non possiamo dire queste cose c'era per la sospita italiana non devo scrivere e poi non vuoi dirmi quello che devo fare io non è che ti dico di correre ok ciao a tutti è bravissimo a suonare la trombetta questo serve quando devi sorpassare scuola ciao a tutti